Leggiamo pochi versetti nell'Epistola di Paolo agli Efesini, capitolo 1, versetto 17-18. «Affinché l'iddio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza Egli vi abbia chiamato, qualsia la ricchezza della gloria della sua eredità». L'immagine degli occhi del cuore è calzante, sicuramente interessante. Così come gli occhi del corpo servono per comunicare le immagini della realtà che ci circonda al cervello, gli occhi del cuore servono per comunicare all'anima sensazioni e immagini di una realtà che c'è, e non sarebbe altrimenti realtà, ma che non si vede con gli occhi del corpo, non si tocca, non si misura. Gli occhi del cuore, dunque. Ebbene, nei prossimi minuti vorrei con voi fare una serie di considerazioni. Anzi, partiamo da un'osservazione, partiamo insieme da un semplice ragionamento e poi andiamo avanti. Un'esperienza comune può essere quella delle sensazioni. Infatti, quante volte una buona parola ha gettato luce nel nostro cuore in momenti difficili, un incoraggiamento, una pacca sulle spalle, hanno fatto sì che in momenti particolarmente difficili della nostra vita il cuore si riempisse di coraggio, di forza, di continuare. E così, se ci eravamo buttati giù, ci siamo risollevati per continuare il nostro cammino. Quante volte abbiamo fatto questa esperienza? Penso spesso. Anzi, quando la parola di incoraggiamento non è venuta, ci siamo anche risentiti forse, l'abbiamo richiesta, desiderata. Una parola che non ha cambiato la circostanza attorno a noi, ma ci ha dato, come dire, la forza per continuare ad affrontarle. Qualcosa che è accaduto dentro, bene, è stato come se gli occhi del nostro cuore avessero visto qualcosa di esattamente contrario a quello che gli occhi del nostro corpo vedevano. Gli occhi del nostro corpo vedevano la malattia e le difficoltà, gli occhi del nostro cuore l'incoraggiamento. Dunque, gli occhi del cuore, rimanendo nell'immagine, sono la porta della nostra anima, attraverso la quale la nostra anima vede, avverte, se preferite, quello che il nostro corpo non può né vedere né avvertire. Nel versetto che abbiamo letto, e qui dobbiamo fare una considerazione, nel versetto che abbiamo letto, l'Apostolo Paolo si propone di pregare Dio affinché illumini gli occhi del vostro cuore. E sì, perché gli occhi al buio non servono a nulla. Al buio si va a tatto, al buio si va a tastoni. Senza la luce gli occhi non vedono. Sempre l'Apostolo Paolo, rivolgendosi a dei pagani, nel Libro degli Atti, disse Voi cercate Dio come a tastoni, cioè provate a toccare, a cercare, ma siete al buio, non avete bisogno di una luce. Dio è vicino a voi, eppure vi muovete come se foste lontani anni luce. Gentili telespettatori, il Signore è molto vicino a noi. Purtroppo capita le volte che il nostro cuore, che gli occhi del nostro cuore non vedono perché non c'è luce. Cos'è la luce? Come Dio illumina? Bene, abbiamo un esempio, Orora. Dio illumina gli occhi del nostro cuore per mezzo della Sua parola. Quando la parola del Signore, il Vangelo, il Nuovo Testamento vengono, arrivano nel nostro cuore, è come se davvero la luce si accendesse improvvisamente con l'anima. Noi vediamo quello che non si potrebbe vedere altrimenti. Un esempio. Gesù nel Vangelo secondo Giovanni si avvicina a un cieco. Era nato cieco. Si presuppone dunque che avesse un problema congenito appunto agli occhi. Era nato cieco. Gesù si avvicina a lui e dopo avergli sporcato gli occhi con del fango lo manda presso una vasca famosa a Gerusalemme e gli dice lì lavati. Il cieco recupera la vista. Come ritorna? Coloro che lo conoscevano, era anche mendicante, coloro che lo conoscevano incominciano a chiedersi e a chiedergli come è stato. Ma tu eri cieco, sei nato cieco. I vicini, ebbè ti abbiamo visto nascere. E quell'uomo rispose, io non so cosa è successo, so soltanto che prima ero cieco ed ora ci vedo. Se riportiamo questo episodio nell'esperienza spirituale, credo che ci aiuterà. Gli occhi del cuore alle volte non hanno la luce e alle volte non hanno la luce perché sono ammalati. Per la qualcosa noi desideriamo, dietro gli occhi del cuore c'è un'anima che desidera al Signore, che desidera Dio, ma non sa come fare. Abbiamo bisogno della luce. Ed ecco che la parola del Signore viene, semplice, ma è una luce. Anzi, dirò di più, viene il sole della giustizia che è Cristo stesso e brilla una parola. Credi esserai salvato. Oppure, qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, io ve la darò. Oppure, non siate turbati, io non vi lascio soli, vi do lo Spirito Santo. Oppure, tutto quello che chiederete al Padre egli ve lo darà. Oppure, e potrei continuare all'infinito, sono tutti i raggi del sole di giustizia che è Cristo che colpiscono gli occhi del nostro cuore e improvvisamente vediamo. Vediamo quello che statue, templi, santuari non ci hanno mai fatto vedere. E cioè, l'iddio vivente è vero. E allora l'anima si riempie di quell'immagine. E allora l'anima è felice. E allora l'anima si apre in un palpito di fede. E allora l'anima sbotta in una preghiera. E allora Dio opera nella nostra vita. Ecco perché Paolo non prega per la salute fisica. Ecco perché Paolo non prega per un buon lavoro, ma prega affinché gli occhi siano illuminati. O il Dio davvero possa aprire il cielo di nubi che spesso grava sul nostro cuore. E in ognuno di noi possa operare questo miracolo. Accenda il Signore la sua luce nei nostri cuori. E possiamo vedere quello che gli occhi del corpo non vedono. E se gli occhi del tuo corpo ora vedono un corpo malato, il tuo. E se gli occhi del nostro corpo vedono una famiglia in disfascimento, la tua. E se gli occhi del corpo ora vedono un uomo o una donna sfiniti dentro. Dio voglia che gli occhi del tuo cuore vedano Cristo Gesù, la salvezza e la soluzione di ogni problema. E io ne sono più che certo, sapete. Paolo pregò, noi continuiamo a pregare, ma al di là della preghiera, in cielo c'è Dio che ascolta ed esaudisce le preghiere. Il Dio illumina gli occhi del vostro cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.